Da questa mattina è iniziata una nuova vita per la famiglia Moneti, un percorso tortuoso che però sarà intrapreso distante dalla loro palazzina in via Persoria, ormai non più di loro proprietà. Alle ore 11 di oggi, 17 aprile, è stato il giovane Alessandro a consegnare le chiavi del civico 53 al custode cautelare Pratelli, ponendo fine una volta per tutte ad una storia complicata e tormentata. Dopo sei slittamenti in poco più di due mesi, la famiglia Moneti ha liberato l'appartamento nella giornata di domenica 16 aprile, spostandosi temporaneamente a casa di una zia a Villa San Martino. Un appoggio momentaneo in attesa che la loro nuova abitazione a Loreto, in cui saranno in affitto, venga liberata entro il primo di giugno. Avevamo metabolizzato già da tempo fa, quindi abbiamo preso il toro per le corna, dai, dobbiamo uscire, usciamo. Sinceramente lasciare quel mazzo di chiavi, anche se è un mazzo di chiavi piccolo, ma ha tolto un peso grosso, quindi dai, svoltiamo pagina, andiamo avanti, ripartiamo da lì, tiriamo una riga e ricominciamo. Finalmente siamo riusciti a mettere la parola a fine, non nel modo migliore che speravamo noi, però dai, va bene lo stesso, insomma, adesso noi abbiamo un appoggio che non è adeguato, però che ci può ospitare tutti e quattro insieme, che non è poco, perché non avevamo neanche questa sicurezza qui. Noi dal nostro punto di vista personale e di famiglia, come coscienza, siamo a posto con tutto e con tutti, abbiamo fatto il meglio possibile per fare il primo possibile con le migliori soluzioni. Spero che le altre persone, tutte le persone che hanno partecipato insomma a questa vicenda dalla parte opposta abbiano la coscienza a posto come l'abbiamo noi. Tra uno sgombero rinviato e un altro, i moneti hanno iniziato a inscatolare mobili e vestiti, sapendo bene che prima o poi il giorno sarebbe arrivato. Loro chiedevano ancora un mese di tempo, ma la legge alla fine non l'ha permesso. Chiuso per sempre il portone di casa loro, come a lasciarsi indietro un abbessale passato, da ieri hanno messo piede per la prima volta nella loro passeggera a sistemazione di 60 metri quadri. Non l'avevo mai vista io, sono arrivato ieri la prima volta, ci ho dovuto dormire, è andata bene, diciamo che è andata bene, non abbiamo dormito benissimo, moltissimo, dobbiamo prendere le misure chiaramente perché è uno spazio piccolo, è una casa piccola, quindi in quattro è molto difficile adesso un attimo gestirsi, però abbiamo tutto ancora in giro, scatoloni e quant'altro, poi magari quando togliamo un po' di cose dal mezzo riusciamo un pochino a prendere una misura un po' meglio. In questi mesi, tutt'altro che semplici per la famiglia Moneti, sono state numerose le istituzioni che hanno preso a cuore la loro storia, accompagnandoli in questo percorso di rinascita. Ci hanno seguito sì, il comune, ci ha seguito il prefetto, il questore, la col diretti, noi dobbiamo praticamente ringraziare tutti, ce l'abbiamo anche stamattina nella consigliere regionale, quindi non sono anche istituzioni piccole, ringraziamo anche l'assessore Enzo Belloni che comunque lui ci ha dato sempre un appoggio quasi praticamente come se fosse di famiglia, perciò è stata sempre una mano sulla spalla che ha fatto il suo dovere. Maggio sarà un mese importante per i Moneti, non solo per adattare con degli ausili la loro nuova casa di Loreto per le disabilità di Alessandro, ma anche per la riapertura della causa civile sull'incidente del 25 maggio 2014, che ha per sempre cambiato la storia del 26enne della sua famiglia. A distanza di quasi nove anni sarebbe emerso un testimone pronto a dichiarare davanti al giudice quanto visto quella notte. Ci sarà l'audienza a maggio, prima era una data, adesso è stata spostata, quindi ancora non abbiamo il giorno preciso, magari quando lo avremo si farà sapere e speriamo di ricevere da lì quello che in teoria ci spetta, ci sarebbe spettato già da prima, ma purtroppo per varie vicissitudini di movimenti sbagliati, di persone sbagliate che ci attorniavano non è successo, quindi adesso speriamo anche in quello, se riusciamo ad avere quell'aiuto lì riusciamo comunque ad avere una tranquillità diversa e maggiore, sicuramente migliore. E sei domandato il perché magari questo testimone è apparso solamente ora? Ma sì, più di una volta, poi secondo anche magari l'avvocato, vedendo il discorso della raccolta fondi, noi poi siamo finiti sul Corriere della Sera, sicuramente avrà visto un articolo nazionale o un qualcosa, è venuta a conoscenza del fatto e si è fatto avanti. Meglio tardi che mai, se fosse stato prima sarebbe stato meglio, però comunque un barlume di luce e di speranza che si è acceso in un momento veramente buio.